Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù via verità e vita sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere in unità gli uomini dispersi, l'apertura di nuove vie di comunicazione, l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto, per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose, o delle grandi acque, contribuisce all'incontro e alle solidarietà fraterna secondo il disegno providenziale di Dio. Inbocchiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanti ne beneficeranno. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. Buongiorno a tutti, grazie Padre Francesco per la presenza qui che è anche casa tua. Ci troviamo a Brucoli, un giorno importante. Permettetemi di ringraziare per la loro presenza i rappresentanti di RFI, l'ingegnere ingenito, spero di non sbagliare nessuno, il dottore Iovino, architetto Iovino. E poi i rappresentanti di Italferre, c'è l'ingegnere della Fortuna. In generale tutti quanti hanno lavorato, ho dimenticato qualcuno? Il direttore dei lavori, l'ingegnere Lucentini. Tutti quanti hanno lavorato a questo cantiere che ha una storia lunga, difficile, non è stato un cantiere facile per tutti quanti, che però oggi finalmente diamo alla città. Un saluto a tutti gli assessori, ai consiglieri comunali. Permettetemi di salutare in modo particolare il consigliere Conti che è stato il mio braccio operativo quotidianamente qui per vedere come andavano i lavori. E quindi sono sicuro, per esempio, che l'ingegnere Lucentini ne ha parlato spesso con il consigliere Conti. Dicevo, un cantiere che ha avuto una storia con delle difficoltà che però sono state superate grazie alla disponibilità di RFI, della ditta che ha fatto i lavori, di tutti gli attori coinvolti. Oggi lo apriamo anche su precisa indicazione, anche e soprattutto su precisa indicazione dell'amministrazione che rappresento perché noi riteniamo che, a prescindere delle ultime lavorazioni che devono essere fatte, alcune veramente, come dire, sciocchezze, altre più importanti come quelle legate all'illuminazione che a stretto giro abbiamo già fatto noi per quello di nostra competenza richiesta di fornitura ad Enel per l'erogazione dell'energia. noi oggi lo apriamo senza quindi che sia illuminato perché riteniamo che è un'arteria importante, andiamo incontro ad un periodo importante per brucoli e già diciamo che l'anno scorso ci siamo assunti, per esempio, la responsabilità in estate di aprirlo nelle stesse condizioni, seppur in un senso solamente unico. e quindi siamo sicuri che a strettissimo giro sarà completo di quelle cose pochissime che mancano, l'illuminazione in modo particolare ed essenziale, la segnaletica stessa cosa ma già ci si sta lavorando, copriamo questo deficit che ha avuto la nostra località di brucoli in questi anni di accesso risolvendo un problema anche di via di fuga importante ed è per questo che ci assumiamo questa responsabilità perché come sapete per andare a brucoli, per andare a venire c'era solo l'altra strada e d'estate soprattutto diventava molto problematico e siccome siamo prossimi ormai all'estate agli eventi anche come dire estivi legati ai ponti assessore Cocola, assessore Abrucoli, abbiamo deciso di aprirla. Chiediamo in questa fase grande attenzione a tutti i cittadini soprattutto nelle ore serali, è una strada che si presta a velocità sostenute chiediamo a tutti di stare attenti, di rispettare il codice della strada di tenere gli occhi aperti e far sì che tutto a quest'opera che è veramente un'opera molto bella e importante per la nostra città e quindi ringraziamo ancora una volta anche RFI per l'investimento che ha fatto qui ad Augusta, possa essere usufruita nel miglior modo possibile per tutti quanti. Grazie e buona giornata. Io penso che ancora non abbiamo finito. Esatto, padre Francesco. E diciamo insieme ringraziando il Signore ciascuno di noi con la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li precede e li accompagni perché superata ogni insidia aggiungono sani e salvi alla meta desiderata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravvivo il nuovo Padre nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo che è via, verità e vita. Meglio è stato inaugurato e benedetto. Facciamo un applauso e ringraziare il Signore. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.